Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi, 30 dicembre. Ci siamo quasi alla fine di questo anno che Carlo Cottarelli oggi col fondo della stampa ha detto chiude dieci anni orribili di crescita economica. Non c'era bisogno ovviamente di Cottarelli per rendersi tutti conto che sono almeno dal 2011 che in questo paese siamo stramorti. Ma la cosa fantastica sono le barzellette di oggi. Intervista a Conte. Devo dire, vero e proprio scoop di Tito su Repubblica. Perché in genere prendere Conte è come, non so, afferrare un'anguilla. In realtà le sue interviste forse è abbastanza naturale per i presidenti del Consiglio, ma per un presidente diciamo moresco, da Moro, o che aspira a fare quella roba lì, è del tutto evidente che non si porta mai a casa una notizia. Ma dicevamo che Tito su Repubblica oggi la notizia la porta. E giustamente Repubblica titola e apre, sarà da discutere tutta la giornata. Oggi il titolo è Conte, resto in politica. E voi potete dire chi se ne frega. Beh, insomma, mica tanto è chi se ne frega. Tutti noi lo davamo per scontato. L'uomo che riesce a passare con tanta disinvoltura dall'alleanza con la Lega a quella col Movimento 5 Stelle è del tutto evidente che sta puntando a questa roba qua. Ma oggi esplicita il fatto che dopo la fine di questa legislatura, perché lui così sostiene che durerà ancora tutta la legislatura e il suo drammatico governo, beh, insomma, continuerà a fare politica. Poi vedremo come. Quindi si squarcia il velo sulle future ambizioni del Presidente del Consiglio, unico nei paesi occidentali, che fa il Presidente del Consiglio senza essere passato dal baglio degli elettori, ma soltanto essere passato per una stanza d'albergo in cui Di Maio e Salvini, non potendo fare nell'uno o nell'altro il Presidente del Consiglio, hanno scelto l'utile terzo incomodo, che veramente incomodo è diventato perché questo incomodo si mangerà il Movimento 5 Stelle e Lega del tutto. Come è nota Tito ci sono varie caratteristiche. Il primo è che sta flirtando con il centro-sinistra, più che col Movimento 5 Stelle, l'uomo che abbracciò Di Maio il giorno dopo le elezioni che diede la maggioranza praticamente relativa al Movimento 5 Stelle in Parlamento. E poi sempre più la figura anti-Salvini, così si sta caratterizzando Conte. Però io ve lo devo dire, vi devo leggere il modo con cui il Presidente del Consiglio, che dovrebbe risolvere i problemi di questo paese, ragiona. E qui gli italiani si dividono in due, quelli che ragionano come Conte e quelli che ragionano, secondo me, con il buonsenso, con la logica. Ma non c'è neanche bisogno di essere di destra, ma persone normali. Allora, una persona normale può dire quello che dice Conte nell'intervista a Tito? Io penso al presente e non al mio futuro. Iniziare a ragionare sul futuro, dice Conte, quando si ha un incarico così rilevante, rischia di creare una falsa e distorta prospettiva, perché le scelte vengono fatte per il proprio futuro e non per il bene presente del paese. Ragazzi, questo è fantastico. Cioè, nel giorno in cui dice che il suo futuro è in politica, nelle prime dieci righe dell'intervista a Tito, spiega che lui non ragiona sul futuro! E non giustifica! Perché dice, se ragionassi sul futuro, le mie scelte sarebbero condizionate dalla mia persona. Ma cazzo, ma la stai appena dicendo? Che nel futuro vuoi fare politica? Lo hai ammesso e dici che non ragioni sul futuro? Ragazzi, ma vale tutto! Vale tutto! Conte può veramente dire di tutto! Ma Aldo Moro gli fa una pippa! Stiamo parlando del maestro! E noi vogliamo essere governata da questa roba qua! Guardate, io sono fissato ormai con questo libro di Ellis, che mi leggo e mi rileggo nei suoi passaggi fondamentali. Qui è la cultura dell'I like, I like, I like, I like, del consenso, del dire le minchiate che non si capiscono bene, ma che suonano decenti. Quindi lotta all'evasione, risolviamo i nostri problemi, stiamo con Greta perché così se facciamo il New Green Deal minchia pact abbiamo risolto i problemi di questo paese. Ma di che? Ma ragazzi, ma di che state parlando? Io la trovo fantastica! È una sardina che si è montata la testa. Direi che do troppo peso alle sardine, perché neanche le sardine sono una cosa di quel tipo, ma è decisamente imbarazzante. Ma non tanto che lui pensi a fare politica, che l'avevamo capito tutti, ma che lo giustifichi come una specie... Cioè, non sono cincinnato. Cioè, non voglio fare cincinnato. Lui continua a fare politica perché non vuole fare cincinnato, paragonando se stesso al consolo e poi dittatore romano che se ne andò in campagna. Ma ragazzi, ma questo bisogna veramente che Casalino gli trovi degli infermieri che gli facciano un po' capire da dove arriva e dove arriverà. Perché tutto va bene, ma c'è un piccolo aspetto in tutta questa vicenda. Toc toc! I voti! Gli italiani! Ricolfi oggi ci fa ricordare per quale motivo in Italia il centro, il cosiddetto centro, non funziona. Nel 2008 il centro valeva il 7%, nel 2013 valeva l'11%, perché lì c'era un altro che si era montato la testa e che era il senatore Monti, reso senatore a vita, che fece il suo partitello. Morto! Morto! Doveva essere l'uomo con l'Oder! E Monti si parva lì, certo, mi viene proprio da dire, era un'altra roba rispetto... Ha fatto più danni di Conte, probabilmente. Ma insomma, siamo lì lì rispetto a quelli di Conte. Nel 2018 invece il centro è arrivato al 15%, perché in realtà affare di quel centro in gran parte è stata Forza Italia. Ridotta, ma comunque partito più centrista rispetto alla Lega. Ma i quattro partiti di centro, Renzi, Calenda, dice Berlusconi e i suoi fuoriusciti, che potranno essere la Carfagna, e sicuramente sono Toti. Il problema è che non vanno praticamente d'accordo su nulla, tranne che sul garantismo. E oggi ce lo spiega bene Ricolfi sulla prima pagina del Messaggero. Intervistato da Rico, bella l'intervista da Rico sempre a Ricolfi, dice oggi l'oggetto dell'odio sociale e degli haters più forte, sapete chi è? Salvini. E questo lo dice Ricolfi, non è che lo dice un salviniano convinto. Salvini invece fa un'intervista, un giornale che certo non può essere considerato a lui ostile, ma è una bella intervista a Senaldi, dice due o tre cose. La prima è che i grillini sono finiti secondo lui e che finirà quello che resta dei grillini e vista l'intervista di Conte, è verosimile nel PD e quell'altro pezzettino di grillini, non di sinistra, andranno nella Lega. Questo dice in una lunga intervista al Libero. Poi dice che sta studiando da Premier. E beh, insomma, studiasse un pochino, perché se c'è un limite di Salvini che forse i dossier non li approfondisce con attenzione. E poi però fa un'ammissione e dice a Senaldi, beh, insomma, avete un po' recuperato i rapporti con l'Europa. E lui dice, sì, sto cercando di recuperarli, una cosa di questo tipo. Adesso non lo cito letteralmente. Quindi, da una parte, ammette che c'era un problema dall'Europa e dall'altra dice, stiamo cercando e dobbiamo discutere con l'Europa e tutto quanto. Quindi, un Salvini più europeista che appunto studia da Premier e dice, mi piace l'Europa meno l'UE, cioè l'Unione Europea. E su questo come dargli torto. Nel frattempo vi segnalo una cosettina. Vabbè, no, poi c'è un'intervista a Zingaretti. Vabbè, l'intervista a Zingaretti che dice oggi Repubblica ne piazza tre. Intervista a Conte di cui vi ho parlato. Intervista a Zingaretti che dice ci vuole crescita e giustizia fiscale. Bravo, Zingaretti. Così prendiamo i voti. Comunque, ti tieni quelli che c'hai perché insomma in questa specie di è perfetto, Conte, è perfetto per Zingaretti. Sono due che non dicono mai nulla. Quelle poche cose che non dicono sono le stesse. Non dicono le stesse cose. Straordinario. Provenzano, ministro del Sud, invece ci spiega che il Sud è un'emergenza. Beh, insomma, ringraziamo Provenzano che ci spiega che il Sud è un'emergenza. Questa legge di bilancio come titolò Libero l'altro giorno e fu sicuramente insultato per un terzo gli investimenti pubblici andranno al Sud. Anche questo è un criterio assurdo. Il criterio è come le quote rosa. Qua c'è il quote Sud per gli investimenti. Io sono del Sud. Figuratevi un po' voi se posso essere contro allo sviluppo del Sud. Ed è del tutto evidente che se in questo Paese donne e Sud non lavorano il Paese non crescerà mai. È un banale fatto non di giustizia sociale ma di giustizia economica, di razionalità economica. Ma l'idea che gli investimenti siano dilottati in funzione della loro qualità geografica vale fino a un certo punto perché se noi costruiamo cattedrali nel deserto non vale. Se noi non abbiamo l'alta velocità Napoli-Bari vale. Se noi non abbiamo un'autostrada in Sicilia una strada decente in Sicilia vale. Se noi non abbiamo collegamenti con la Sardegna decenti vale. Ma insomma non confondiamo le infrastrutture sacrosanti con i particolarismi per cui gli investimenti siccome devono andare al Sud purché si spenda. Quello serve poco a nulla. Dieci anni e poi vabbè la legge di bilancio e Provenzano ci racconta un po' di queste robe. Il fatto di cronaca più importante è l'attacco al rabbino e a New York e lì io ringrazio Francesco Semprini. Perché ringrazio Francesco Semprini? Perché ogni tanto ci sono dei giornalisti ogni tanto ci sono dei giornalisti che fanno la cronaca che non si fanno le pippe mentali. Il pezzo di Francesco Semprini parte un cittadino afroamericano di 37 anni cerca non mi ricordo poi dopo cerca di ammazzare un rabbino e entra con un macete in una comunità diciamo di ebrei vicino a New York. Quindi parte il pezzo con la notizia è un cittadino afroamericano di 37 anni il resto del mondo vi giuro! Se voi vi dirgete God Lerner sembra che sia il problema quello dei suprematisti bianchi questo è un afroamericano ma perché devi mettere oggi i bianchi? Tanto i suprematisti bianchi di cazzate ne fanno ogni giorno di delinquenze ne fanno un giorno ma un giorno che c'è l'afroamericano ma perché ci devi romper i coglioni con Ku Klux Klan sono due cose diverse il Ku Klux Klan se lo magna questo afroamericano che a sua volta se magna gli ebrei tra l'altro è successo poco tempo fa nel New Jersey che altri due cittadini afroamericani prima ammazzano una gente e poi uccidono altre cinque persone in un negozio kosher quindi l'idea che ci sia un afroamericano che uccide degli ebrei non è una roba che si inventa semplini e si inventa la cronaca è una roba che purtroppo sta avvenendo e anche da un punto di vista giornalistico per noi ignoranti l'idea che gli afroamericani attacchino gli ebrei è una notizia ma non per Gadlerne per cui è sempre colpa dei nazisti non per Massimo Gaggi la partenza di Massimo Gaggi ostilità di destra radicale nazionalista dei suprematisti bianchi o antisematismo di afroamericani ma di che sta a parlare è antisemitismo di afroamericani ma che cazzo di domanda è che uno si pone nelle prime quattro righe del Corriere della Sera se c'è un afroamericano che cerca di ammazzarli ma perché dobbiamo mettere i suprematisti bianchi che sono già stronzi a modo loro ma in questa vicenda ma perché li dobbiamo tirare in bel come se giustificare come se mettere come dire in uno sì è stato un afroamericano ma attenti che ci sono i nazistoni grazie insomma forse anche Salvini che li sta ispirando è una roba pazzesca pazzesca il Papa contro il telefonino e Zurlo dice giustamente il Papa finalmente dice una cosa straordinariamente sacrosanta il telefonino da tavola ragazzi non lo usate parlate con i vostri genitori incidenti stradali la polizia non ci sta oggi fa uscire i dati sugli incidenti stradali che sono diminuiti rispetto all'anno scorso ma le vittime restano 1566 esattamente più o meno come l'anno scorso sulla vicenda delle due ragazze c'è la buongiorno che dice non ne facciamo un caso mediatico detto dalla ex deputata amica di Fini e poi diciamo leghista che ha fatto quei tweet che ha fatto della sua partecipazione perché lì era Coppi alla vicenda Andreotti diciamo soltanto un grande carrozzone mediatico viene un po' da ridere che adesso che fa l'avvocato di questi qui non ne facciamo un caso mediatico lei è l'emblema di quella roba lì delle cose serie ne parliamo perché invece il messaggero dice che le ragazze non sono passate sulle strisce e c'è sempre quello là agli arresti domiciliari perché ha ucciso due persone gravissimo lo ripeto ma in realtà queste ragazze scavalcano il guard ride non passano sulle strisce e passano con rosso insomma ragazzi attenzione a fare di tutta l'erba un fascio i movimenti 5 stelle sono nel pallone più totale ma la cosa più divertente è che il 12% soltanto di loro paga i contributi che dovrebbe dare al partito secondo la legge che si sono dati loro a me non me ne fotte nulla si sono dati loro in funzione di questo onestà 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 Restitution Day hanno preso i voti degli italiani ma in realtà i soldi non se li danno una di loro la più cattiva di tutte oggi lo nota il Corriere della Sera o Repubblica Yana Hen che lavorava all'ambasciata americana dura e pura la più grande diciamo moralista del Movimento 5 Stelle si fa fotografare alle Maldive io ci andrei volentieri le Maldive sono straordinariamente affascinato da chi si fa delle belle vacanze e si gode la vita anche se è una stellina una grillozza non me ne fotte nulla godetevi la vita che fate bene ma c'è un piccolo particolare lei sta alle Maldive e nel frattempo è da febbraio che non restituisce i 2300 euro al partito e allora me potrò un po' cazzà come direbbe il Marchese del Grillo se fosse un elettore del Movimento 5 Stelle la voto non restituisce mi dice che restituisce soldi non li restituisce dice prima l'Italia eccetera se sta in altaria alle Maldive ecco io la voto ora che va alle Maldive se prende anche la boccia di Crystal o di Ferrari ma il Movimento 5 Stelle forse sta roba non la capisce tanto bene o no io trovo abbastanza poi il fatto ovviamente che cerca sempre di mettere una pezza a ducce sarebbe più facile fare una restituzione forfettaria invece di fare queste restituzioni complicate quindi è colpa come dice la ragazza del webmaster di ti rendi conto cioè dove rimandano i soldi e non lei che non restituisce i soldi a me non ne frega niente ripeto ma sono ridicoli ipocriti cioè il contismo e i grillini della prima ora fantastico ci sarebbe da scrivere un libro Pallotta vende la Roma per il messaggero e l'apertura 790 milioni per vendere la Roma a un altro texano miliardario e importatore di Toyota ne parla di mito e ci spiega come faranno addirittura un Opal super specialista della finanza del messaggero l'ultima notizia è ricordatevelo tutti oggi solo le 24 ore e ci spiega che 2 milioni di partite IVA che avevano il sistema forfettario del 15% 1 su 4 perderà il sistema forfettario cioè 500 mila partite IVA dal 2020 non avranno più il 15% faranno fattura elettronica e dovranno anche ovviamente pagare l'IVA cosa che prima non mettevano in fattura quindi non la incassavano e non la ridavano indietro e sapete perché? perché si sostiene che il pensionato o il dipendente che ha 30 mila euro di reddito non può fare la collaborazione Cina 15% ecco in questa specie di invidia sociale della straminchia io vorrei che quei 500 mila che escono dalla partita medici professori universitari professori di scuola che c'era una piccola consulenza su cui pagavano un po' di meno tasse e chi se ne frega tra l'altro il 15% più contributi magari arriva al 40% bene ricordatevi cosa vuol dire queste minche di aumenti di tasse che fanno finta che non ci siano ma che in realtà ci sono ciao